Con un convegno all'auditorium del Parco del Castello, l'Aquila ha chiuso il percorso che per il 2022 l'ha vista essere città europea dello sport. Tempo di bilanci, quindi, e nelle parole del presidente del Comitato Organizzativo, Francesco Bizzarri, il quadro che viene fuori è oltremodo positivo. Per la qualità degli eventi proposti, risposta degli atleti, del pubblico e anche delle associazioni sportive che sono state coinvolte nell'organizzazione delle manifestazioni. Il bilancio innanzitutto è sicuramente positivo. Oltre 50.000 persone tra atleti, partecipanti, addetti ai lavori che sono venuti all'Aquila. Abbiamo coinvolto 64 società sportive, locali, regionali, nazionali e naturalmente facendo degli eventi anche internazionali. Da questo punto di vista è sicuramente positivo. Lasciamo un'idea di sport dopo la pandemia nella nostra città. Il mio augurio è di poter proseguire in quest'ambito anche quest'anno. L'obiettivo adesso diventa quindi coltivare il lascito territoriale di L'Aquila, città europea dello sport 2022. Una eredità importante che guarda non solo al lato prettamente agonistico, ma anche e soprattutto allo sport di base, come evidenziato dal campione di pallavolo Andrea Lucchetta. Quando siamo arrivati qui con la Federazione Italiana Pallavolo abbiamo fatto giocare più di 1200 bimbi. Alla fine la presenza non solo dei genitori ha dato la possibilità di essere contestualizzati in quel percorso dove, dai bambini, dalle scuole primarie, fino ovviamente ai ragazzi che possono giocarsi un qualcosa che ancora è arde di passione. Vuol dire che il percorso che è stato portato avanti è fatto proprio di passione, perché il sogno all'inizio è proprio quello di potersi divertire, stare insieme, per poi emulare i gesti di quei campioni che hanno visto all'interno della propria città frammentati in tante manifestazioni. Quindi ora il testimone va passato ovviamente a tutte le associazioni e le federazioni che devono continuare in maniera tale da avere una buona base per non ripartire, ma consolidare. Oltre ad agonismo e sport di base, un altro aspetto che ha fatto da tratto d'unione comune per tutto il cartellone eventi di L'Aquila Città Europea dello Sport 2022 è stato la stretta collaborazione con gli ambiti della formazione a ogni livello, uno stato di cose che ha trovato una ulteriore sintesi anche durante il momento conclusivo di L'Aquila Città Europea dello Sport. Il convegno finale all'auditorium del Parco del Castello, infatti, ha messo al centro il contributo dello sport all'inclusività e allo sviluppo sostenibile, un tema di rilievo nazionale su cui c'è grande attenzione, come dimostrato dalla presenza del Capodipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi. L'Aquila si è dimostrata veramente all'altezza nell'ultimo anno con quale città europea dello sport e di poter mettere in campo iniziative importanti a beneficio di tutta la comunità. Noi vogliamo proprio valorizzare, partendo dallo sport di base, quelli che sono i principi fondamentali dello sport, quindi un'attività di formazione, di comunicazione che aiuti non soltanto a formare dei nuovi campioni, ma soprattutto a formare una buona cittadinanza attiva e che pratichi questa attività al fine di poter valorizzare alcuni principi fondamentali, come l'inclusione sociale, quelli della solidarietà e del rispetto dell'altro. Grazie a tutti.